Musica Allora, siamo qui riuniti nella pubblica plazza per dimostrarvi l'atleticità del gruppo Siamo venuti dal centro a piedi a piazzare Michelangelo Ma dirò che è abbastanza faticoso perché loro non lo sanno C'è una salita della Madonna che sembra di andare su Cervino O sul Monviso per una che viene da quasi Cuneo Esatto, no, Cuneo no, Torino, non Cuneo Ti ho offeso apposta Eh sì Quindi ragazzi, questa è la prima tappa Poi vi faremo vedere come rimettiamo le forze a mangiare A mangiare Quindi per ora, questo poi ve lo trasmettiamo in diretta sul gruppo Ciao ciao, intanto andiamo a vedere Ragazzi, dopo ulteriore salita siamo arrivati a San Mignato Chiesa gotica preservata dagli incendi quindi è originale Ma il problema è la fettata di scale La salita Che ci toccherà? La penitenza Ma quando arriviamo in cinema siamo puri Spurgati da ogni bene Possiamo poi dopo andare a ripeccare Io qui per peccarci ho l'abbondanza Quindi ragazze andiamo su pensando dove andiamo a peccare dopo con la forchetta naturalmente Certo, oramai Vi farò vedere la chiesa quando arriviamo in cinema se ci arriviamo Allora, abbiamo fatto la scalinata Manca Antonella Siamo arrivati Ecco, l'Antonella non c'è Sì, sì Siamo arrivati Poi la cosa bella è anche il meraviglioso panorama Lo vedete, lo vedete il panorama Il Duomo Si vedono quanto siamo saliti Siamo saliti da Ground Zero a 3000-3005 Saremo qui Anche 3-8 Ecco E ora entriamo a vedere San Mignato Ci richiamo a essere benedetti Ragazzi, abbiamo assistito anche a 5 battesimi E a parte il battesimo mi veniva da pensare Sti po' di bimbi non sanno cosa li tocca nei prossimi 60-70-80 anni Ragazzi, vediamo finché ce la possiamo fare Via, pensierino Questo era il pensierino prima di pranzo Sai, stomaco vuoto si ragiona meglio Allora, bimbi, siete più sante dopo aver visto battesimi, cresimi, comunioni, matrimoni, tutto quanto? Facciamo finta che siamo qualcuni del battesimo E ci facciamo accompagnare giù in macchina Eh, ma possiamo anche prendere un taxi Ma a me mancano i tacchi Alla faccia dei poveri Mancano i tacchi Madonna che tacchi Perché la vedo con la griscia mia bassa Io? Eh, la vedo stanca, la vedo deperita Ti do punti Non ti preoccupare Non ti preoccupare Che quando è il momento Via, accorsa Chi arriva prima giù all'Arno E poi è un tuffo L'ultimo che arriva fa il tuffo Come andiamo? Come andiamo? Bene 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 Di qua come si va? Di qua si va benissimo Ecco, allora ragazzi Passo lungo e ben distretto Andiamo a mangiare Senti, mafio, parcheggiato qui Loro vengono a piedi Te che sei stanca ti porto Dai, monta Monta perché ho parcheggiato qui un momento Vigili non mi dicono niente Ci sono anche le chiavi, guarda Ci sono anche le chiavi Anche le chiavi Perfetto, vai guidi te Certo Vai guida te Vai guida te Sei pronto? Sì, sì Andiamo Attento ti fanno le multe Infatti io non apro Ecco Ora ci vedete Dopo tanto salire Ci vedete scendere Negli inferi Nel mezzo del cammin di nostra vita Ci dice una mamma Girà per Firenze Sulle discese Abbiamo conquistato la postazione Ragazzi Bicchieri, tovaglioli e posate ci sono Pagà non si sa Poi si vedrà Siamo a posto Lei è a sedere perché Nonostante tutta la sfrontatezza Nel video precedente Era proprio morta Ma adesso con un bicchiere di vino Passa tutto Ecco Allora andiamo Ragazzi Io vi dico Procediamo Allora ragazzi Finalmente la pappa Stiamo mangiando Com'era? Il tegamino Il tegamino del carcerato A moda di Istonia Carcerato Del carcerato Quindi siamo tutti in galera L'unica signora Veramente Con Il tagliolino All'anatra Muta L'altra che scrive Manda le foto A Lucas Sto mandando a Lucas Noi mangiamo Trippa Lampredotto E ribollito di passato Ribollito di passato Quindi Una cosa proprio da signori Leggero Ci siamo messi Vedete i guanti bianchi Per mangiare Le due e mezza Le due e mezza E questo è leggerino Perché a cena Poi gli daremo Gli daremo Voglio assaggiare Questa bomba atomica Fai vedere Com'è La prima reazione Del boffone Com'è 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 Passeggiata Fino a pitti Di quelle Sotto lo struscio Fiorentino E il sole Che ci ha cotto Che ci ha proprio cotto Eccole A prendere l'aperitivo Da veri signori Dove? Dove? A Gilli In piazza della repubblica Mica pizze fighi Cioè Vedete Vedete cosa vi state perdendo? Che la biela Non è nada Signore Nada Signore La biela Che è la biela In comparazione con Gilli Abbiamo Il menù Le menù Ma c'è anche Il piano Di finanziamento Da parte San Paolo Intesa Per l'esperimento Senti un po' Dimmi Abbiamo due ore Di stare qua Quindi lo spritz Va benissimo Perché le sei Lo bevi piano piano L'hai già anticipato Poi si va a mangiare Noi Ma vedi, vedi, vedi Vedi La mafi Con l'occhio D'alcolizzato cronico Guarda Già si vede Il livello Infatti Tanto che a Torino Non lo faccio Approfitto qua Perché nessuno mi conosce Appunto Hai capito? Ma cioè Tu Da Gilli C'hanno L'alcol speciale Quello che È più Ma tanto vado a dormire con lei È più buono Tanto vado a dormire con te Adonela Facciamo un menage a trois Una cosa dopo l'alcol Sai Allora ragazzi Qui siamo a Firenze E come vedete A noi Il bife di chorizo Ci fa una sega A Firenze Perché siamo pieni di arne Fino a capelli Quindi Vedete che bimbe Vedete Guardate Lei è l'unica Che non è carnivora Si è presa I cappellacci Allora A Tartufo Dov'è Tartufo? Dov'è Tartufo? Dentro Ok Bimbe Com'è? Siete pronte? Il canino è filato? Manca solo il contorno Vinello Antinori Non è mica Un cavernet argentino Qualsiasi Questo è un Antinori Ora Guarda Guarda Villa Antinori Guarda Guarda Villa Antinori Ecco Certificato Brindisi 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 Un grazie a Luca Che ci ha riuscito Grazie a Luca Che ci ha fatto riunire Ecco Ecco Ciao Ciao Luca E allora Ora vado a mangiare filetto Se no mi si ghiaccia Bene Vai Ragazza è finita Abbiamo maniato Abbiamo bevuto Abbiamo cioccolato Abbiamo parlato Sparlato dei non presenti Esatto Di tutti Non facciamo nomi Di chi abbiamo parlato male No Lucas Luca Andrea Poi chi c'era Che abbiamo parlato male Anton Barbaro Anton Barbaro Anton Barbero Daniele Daniele Silvia Carfi Silvia Carfi Silvia Che non è ancora finita Vabbè ragazzi Speriamo di non metterci A 45-50 anni A vedersi Vedi vedi Continuano a cioccolare Mezzanotte Ma continuano a cioccolare La noce come? La noce sta in paniale La noce sta in paniale Ancora meglio Grazie a te Noce sta in panoroverse Spera di ralto Grazie a tutti. Grazie a tutti.